Ti adoriamo, ostia divina, ti adoriamo, ostia d'amore, ti adoriamo, Gesù. Siero dato e ringraziato ogni momento. Siero dato e ringraziato ogni momento. Siero dato e ringraziato ogni momento. Oggi e sempre siero dato. Siero dato e ringraziato ogni momento. Oggi e sempre siero dato. Siero dato e ringraziato ogni momento. Siero dato e ringraziato ogni momento. Oggi e sempre siero dato. Siero dato e ringraziato ogni momento. Entrino, ognuno occupa il suo posto, nella casa del Padre c'è posto per tutti, lì c'è posto, e anche lì in fondo c'è ancora qualche posto, non ammassatevi tutti nel centro. O Gesù, insordato, sotto la croce, presa la lancia, e ti travisse il cuore, e da quel cuore scorciato uscì sangue ed acqua, perché si è rimpessa la scrittura, e tutti guardavano colui che hanno trafitto. Gesù, questa mattina vogliamo che si compri in noi questa scrittura, vogliamo guardare il tuo cuore trafitto, da cui sgolga sangue ed acqua, e ti presentiamo le nostre ferite, ti presentiamo innanzitutto le ferite del peccato personale, quelle ferite che ci mettono in angustia, quelle ferite che portiamo per le tante e tante ricadute, quelle ferite che non possiamo eliminare, che non abbiamo la forza di eliminare, che ci umili davanti a te. O Gesù, noi presentiamo queste ferite davanti a te, le ferite dei nostri peccati, le rividure dei nostri peccati, siamo pieni di peccati, oh Signore, dalla pianta dei piedi fino al capo, è tutta una piaga, quante ferite, non l'unto con olio, non l'unto col bassamo, noi ti presentiamo queste ferite, oh Signore, perché la tua grazia scenda su queste ferite. Ti presentiamo le ferite delle nostre ricadute, ti presentiamo le ferite delle nostre tendenze, ti presentiamo le ferite di tutti i nostri peccati ripetuti, delle nostre lebolezze che ci applicano e di cui non siamo stati capaci di allontanarci, e queste ci fanno soffrire, sono ferite profonde, sono piaghe che noi portiamo. Signore, borsa ancora il vino della speranza, borsa ancora l'olio della consolazione sulle nostre ferite. Ti ripresentiamo, Signore, perché noi possiamo essere guariti dalle te piaghe. Tuo Signore, rimargini queste ferite profonde che sono dentro di noi a causa dei nostri peccati. Tu ci dai la gioia della consolazione di te piaghe che saranno rimarginate, saranno cicatrizzate per il tuo sangue prezioso che sgorga su queste ferite. Le nostre piaghe saranno lavate dall'acqua del tuo spirito che sgorga dal tuo cuore. Signore, Signore, Gesù, fa sgorgare ancora l'acqua che ci lava, il sangue che ci purifica e ci rinnova. Ti presentiamo le nostre ferite, le nostre piaghe causate dai nostri peccati personali, passati e presenti, delle nostre tendenze malvagie, dei nostri vizi capitali che sono ancora in noi e che ci fanno soffrire. Signore, Gesù, offriamo il nostro corpo piegato a te perché tu lo risani, il nostro corpo spirituale, il nostro cuore malato. Te lo offriamo a te, oh Signore, Gesù. Sia rodato e ringraziato ogni momento. Sia rodato e ringraziato ogni momento. Sia rodato e ringraziato ogni momento. Signore, Gesù, noi ti presentiamo le piaghe ricevute dagli altri nelle case dei nostri fratelli. Ma che cosa sono derivate queste piaghe elette in Zaccaria? Come mai queste piaghe ne le rimane? E il profeta risponde, l'ho ricevute nelle case dei miei fratelli, nelle case degli amici. Signore, quante ferite dentro il nostro cuore. Ferite che ci hanno dato gli altri con una parola, con un gesto, con un atto inconsulto. Quante persone ferite, fratelli e sorelli in mezzo a noi, quanti tradimenti, quanti insulti, quante calunnie, quante frustrazioni, quanti sgambetti, quanti oppressioni, quante persecuzioni. Oh Signore, noi ti offriamo le nostre piaghe che hanno ferito profondamente il nostro cuore, hanno rovinato la nostra vita, e hanno amareggiato la nostra esistenza. Oh Gesù, tutte queste ferite del cuore, a causa dei peccati degli altri, noi te lo offriamo. Ti offriamo le ferite ricevute in famiglia, nell'infanzia, nell'adolescenza. Ti offriamo le ferite ricevute nelle relazioni con gli altri, nella prima giovinezza, nella seconda giovinezza. Ti offriamo le ferite ricevute in famiglia, e che tu sei il figlio di Dio, e che tu mi guarirai. E che tu mi guarirai. Gesù, io spero, nella tua parola, mi colpisca, la tua parola, ed io sarò guarita. Gesù, io perdono tutti quelli che mi hanno fatto del male. Perdono mio padre e mia madre. Perdono i miei fratelli. Ed io sono sicuro che tu mi guarirai. Gesù, mi guarirai. L'uomo di Galilea passa. Passa in mezzo a noi. Tocca il suo Signore, con la tua mano onnipotente. Il tuo cuore palpita di amore. Per me che sono in ferma. Per me che sono in ferma. Tocca il mio Signore. Ci presentiamo al Signore, noi tutti, che abbiamo dei mali nel capo, negli organi del capo, alla cortezza cerebrale, alle orecchie, al timpano, alla gola, alla lingua e agli occhi. E gridiamo all'uomo di Galilea, ti prego di toccarne. Viva! Allie. 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 Il Signore tocca una gola e una lingua impappinata che si scioglie. Ecco, il Signore caccia lo spirito muto e allora se c'è questa persona che ha un male lancinante alla gola e adesso non ce l'ha più e chi aveva la lingua impappinata alzi la mano grazie Signore Gesù grazie Signore Gesù due persone hanno male all'udito una otite secca da diverso tempo e un roma all'udito che crea fastidio tutte e due le persone sono toccate e guarite prego di identificarsi queste due persone una due grazie Signore Gesù grazie Signore Gesù adesso offriamo al Signore e il Signore continuerà a guarire però alla cortezza cerebrale c'è una persona che sente dolore alla cortezza cerebrale e una persona che stila mente per i capelli tra tre mesi i capelli cresceranno bene e la cortezza cerebrale dell'altra persona in questo momento è rinfrescata non sente più il dolore prego la persona di identificarsi cortezza cerebrale grazie 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 Signore Gesù grazie Signore Gesù Signore ti presentiamo gli organi del petto del busto so Signore che tu guarderai un polmone infiltrato un polmone dove si è annidato qualche germe tu lo stai espungendo grazie Signore perché tu hai toccato questo polmone in questo momento ecco grazie Signore Gesù la persona che ha affetto di questo male grave sia contenta perché il Signore l'ha toccato se puoi identificarsi si identifichi questa persona ecco una persona che ha un male al petto è un'infiltrazione Signore tocca e guarisce se le persone vuole identificarsi si identifichi il segno è che sente un colpo al petto hai sentito un colpo al petto grazie Signore Gesù una cirrose epatica viene toccata dal Signore ci sono tre persone con cirrose epatiche qua dentro ma una viene toccata dal Signore in questo momento e sente uno sgonfiore al pegato prego la persona di identificarsi persona con cirrose epatica cosa hai sentito tu? un colpo alla grazie Signore Gesù migliorerai poco a poco il tuo cuore è malato il tuo cuore è malato è malato spiritualmente e anche materialmente ma io lo guarisco confessati migliorerai nel cuore fisico quando il tuo cuore è malato spiritualmente sarà guarito attraverso la confessione man mano le persone cominciano ad identificarsi bene c'è un male all'inguine con con pericolo lenta ed è il Signore guarisce una donna tinesità male all'inguine con iscrizione purlenta se vuole lo dica se non vuole lo farò stesso certamente il Signore ha guarito proprio il colone discendente c'è un colone discendente che il Signore guarda c'è un male che da diverso tempo attenaggia questa persona il Signore tocca e guarisce questo male che gravi al colone discendente Signore Signore tu stai toccando l'utero di una persona che è spastico e impedisce a questa persona di generare Signore tu stai toccando l'utero che si ammorbidisce e questa persona è in grado di concepire grazie Signore di Gesù tu stai toccando un pibroma un pibroma di una persona molto giovane più 30 e 35 anni proprio giovane ma il Signore tocca e guarisce se la persona ha sentito un colpetto proprio nella parte dove l'utero del pibroma che è proprio nel centro e un'altra persona che è stata toccata all'ovaio destra queste persone se credono possono identificarsi è una ciste all'ovaio destro e un pibromo all'utero queste persone se vogliono possono identificarsi hanno sentito un colpo del Signore il tocco dalla mano del Signore vediamo se vogliono identificarsi grazie Signore Gesù grazie Signore Gesù un dolore al coccige che dura da tanto tempo la persona stenta a federsi ma il Signore tocca e guarisce in questo stesso istante il Signore la tocca ed essa non sente più questo che l'olore accoccige è una donna se vuole identificarsi bene altrimenti può scrivere per un'altra volta Signore noi ti ringraziamo continua a guarire cantiamo gli uomini che le legate prego di toccarmi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Queste persone, vediamo, quella del braccio e quella della gamba. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Signore, tu dici che c'è una caviglia, una caviglia dolorante che non si articola bene. Tu la stai guarendo, chi ha la caviglia che non si promuove anche e stenta a fare i movimenti e sente adesso libera, liberissima la caviglia, tanto che si promuove senza dolore. Che questa persona si identifichi. Caviglia, caviglia. Come ti senti? Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Grazie a tutti. Ci sono delle persone oppresse, delle persone che hanno confusione in testa. queste mattine sono tutte qui e ancora hanno confusione in testa. In questo momento il Signore tocca la testa, non hanno più confusione, si sentono completamente libere. Due persone. Grazie, 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 Signore. Un'altra persona si sente appesantita perché è depressa. Adesso si sente leggerissima, come una piuma, quasi può volare. una cosa spiegabile, una cosa spiegabile, una cosa spiegabile, che è questa persona che è rappresentata per essere leggera come una piuma. grazie, signore, signore. Grazie, Signore Gesù. Signore, preghiamo per questa nostra sorella. Tocca, Signore, gli occhi di nostra sorella. Tocca, Signore, gli occhi di questa sorella E alleggerisci il suo dolore, appena il suo difetto, fa che veda qualche cosa oggi stesso. E allora domandiamo al Signore che continua a guarire nello spirito. L'hai fatta una grossa figlia mia, l'hai fatta grossa, l'hai nascosta, però io l'ho visto quello che hai fatto, pentiti, confessati. Tu in questo momento sei colpito, tu in questo momento sei addolorato, io ti perdono, va a confessarti, nessuno saprà quello che hai fatto. Tu che confide nei soldi, non sono i soldi che ti possono salvare, è la mia grazia che ti salverà. Io ti vorrò incontro, confide in me, io aggiusterò il tuo caso. O Signore, Signore mio Dio, vieni qui in mezzo a noi questa mattina ed opera pochi i nostri cuori. Signore, tu dici a tre persone che sono andate da maghi, che hanno salite scale proibite. Una scala di una nota maga che va alla televisione, ti ha ingannata, ti ha tolto il denaro e tu sei peggio di prima. pentiti davanti a me e poi i due altri che sono andate in maghi di secondo ordine, anche queste ti hanno ingannato, ti hanno tolto dalla tasca del denaro. Non andare più, altrimenti sarà la vostra perdizione, voi tre persone. Tu che sei andato da lei di Barbara, tu che sei andato da altri due maghi, il Signore, il Signore ti perdona se tu confessi il tuo recato. e tu che hai mandato qualcuno da un mago per guarirti, non mandare più nessuno, viene dal Signore, lui soltanto può guarirti. Io resto, fratelli e sorelle, mettiamoci tutti davanti al Signore. Ringraziamo di quello che egli ha fatto e che continua a fare e presentiamo al Signore tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle che hanno chiesto attraverso telefono o lettera la preghiera di questa comunità terapeutica. Mettiamo davanti al Signore tutte queste persone che hanno deposto le loro città. Ma il Signore continuerà a guarire, perché questa mattina è in vena di guarire. Quando telefono va questa persona, dite che il Signore ha bloccato il tumore che ha a lei. Signore, adesso, come seguiamo tutti gli ammalati, Signore, tu ci avresti di conservare le Tue parole dentro il nostro cuore. Ti vuoi inseminare dentro il nostro cuore la speranza. Già che riceviamo queste parole di speranza dentro il nostro cuore e queste parole dovranno attento e opportuno il loro futuro. Signore, ti presentiamo tutti questi nostri cari fratelli, ti presentiamo tutte le loro afflizioni, tutti i loro problemi morali e spirituali, ti presentiamo le loro famiglie. Signore, tu, signore, ti presentiamo tutti i naturally che è un'altra figura. E da la libertà a un prigioniero che interessa una persona che ti presenta. Adesso ci alziamo e rivediamo al Signore la nostra fede, perché Lui è colui che guarisce. Io sono il Signore che ti guarisco.